ciao allora benvenuti nel video delle scoperte del mese dove vi mostro i cinque prodotti che ho preferito e ho provato preferito di questo mese prima di tutto e prima di iniziare mi dispiace se con questo abbigliamento vi faccio caldo ma io assicuro che qui da me ancora il caldo non c'è quindi per adesso e facciamo che è una cosa coccolosa e morbidissima ma soprattutto è pomeriggio sera e stando in casa la temperatura che ancora io sto bene così sono poi freddolosa di natura ma spero di non farvi sudare troppo allora intanto prima di iniziare il video come sempre vi ricordo di essere iscritto al mio canale mettoni un like e lasciarmi un commento per supportarmi e nel commento come sempre scrivetemi qualcosina se volete partecipare alle estrazioni di un premio come sempre scelto da me se non sapete di cosa parlo perché mi sto incastrando la tra fine del video dove lo spiego bene iniziamo con i prodotti scoperte di questo mese allora primo prodotto è questo della bottega verde questo è il perfume deodorant della vaniglia nera diretto di bottega verde quindi la profumazione è alla vaniglia nera stavo cercando la quantità ma forse l'ho segnata sì 125 ml viene prezzo pieno 12,99 ma se guardate online oppure in negozio è sempre a prezzo di almeno 6,99 o 4,99 con le cartoline quelle periodiche e lo potete trovare tranquillamente in sopra e promozione allora se vi piace la profumazione vaniglia nera ma devo dire che delle questi qua con l'erogatore a pompetta fatti così ok da 125 ml dove è un odorante ok c'è di tutte le profumazioni perché l'ho visto al pietà rosa e alla vaniglia classica al cocco agli agrumi non mi ricordo cos'altro ma penso che ci sia più o meno di tutte le profumazioni andiamo con questo la vaniglia nera che oltretutto vi mostro e cosa dire a me la profumazione che piace tantissimo ma davvero tantissimo allora è prettamente invernale perché è dolce e avvolgente coccoloso ecco però io lo uso tutto l'anno perché mi piace tantissimo e questo spruzzino è comodissimo da applicare in teoria andare applicato sia sugli ambienti che però è fantastico ma io lo uso anche tranquillamente sui vestiti sui capelli e sul bucato quindi se ad esempio sul bucato voglio un attimo un profumo e persiste ma persiste davvero quindi wow soprattutto quando ho il bucato steso che lo tiro su e prima li metto nei cassetti gli do una spruzzata e ogni volta che apro il cassetto è un tripuglio di questo profumo che non è mai troppo invadente e poi vado a indossare gli abiti che sanno un po ancora di questo profumo quindi è più e meno concentrato perché è più diluito volevo dire è meno concentrato è meno meno persistente ma basta di applicarlo è fantastico vaniglia nera io la stra adoro ma ci sono altre trasmazioni e questo soprattutto con le cartoline promozionali periodiche che davvero è 4 99 spesso quindi 5 euro è un super super prezzo perché dura tantissimo e oltre questo andiamo avanti col prossimo scoperta e vi mostro questo prodotto che ho trovato per caso da tiger allora questo e lo chiamano lip balm alla menta eccolo qua è il balsamo labbra di tiger e con la confezione in latta era carinissima ma ho fatto lo swatch bella questa confezione in latta e ho guardato ed è sarebbe un prezzo di 3 euro prezzo di listina ma io l'ho trovata in promozione proprio così non c'è neanche la quantità non c'è niente ed è tra i prodotti a un euro e quindi ho voluto provarlo allora più che un balsamo labbra avete visto anche dallo swatch è un un guento perché davvero molto corposo molto molto grasso ecco però proprio vogliamo dirlo non è proprio comodo ad applicare con il dito soprattutto mi raccomando le mani pulite e usatelo solamente voi io lo uso alla sera perché durante il giorno tende a essere un po troppo lucido e inizia a spostarsi un po troppo invece alla sera ha un buon potere e anche perché è davvero idratante ma in realtà davvero tanto quindi l'applico la sera poi la mattina mi sveglio che il prodotto è sparito però le labbra sono belle morbide e esatto ricordavo ha un profumo di menta delicato che si stende bene sulle labbra e non va a farle pizzicare non è persistente non dà fastidio quindi ci piace unica cosa che tra le poche cose che ci sono c'è l'inci e al primo posto c'è la cera micro cristallina che sappiamo è un componente sintetico poi vabbè ci sono comunque olio di cocco alcol che mandorle dolci o di rimangere dolce se c'è un olio di ricino ogni semi cera alba accettate a roma tocco per tocco ferolo allora si alterna a ingredienti il più lg e leggere in così piccolo però ha ingredienti sintetici come la cera micro cristallina ha ingredienti buoni come l'olio di mandorle l'olio di cocco e cos'altro vi avevo letto e l'olio di cocco eccolo e olio di mandorle eccolo burro e burro ecco butter e burro ecco perché è così morbido c'è il burro ma il burro naturale burro vegetale butter butter e basta bene non sapremo mai che cosa c'è dentro comunque per i prodotti a un euro ci può stare anche perché la scatolina è piccolina e può stare tranquillamente anche in borsetta è carina da usare 3 euro mi sembra un po troppo comunque sia un prodotto interessante da provare tiger che non avevo mai visto sinceramente quindi mi ha incuriosito ma andiamo avanti perché ho ancora tanti prodotti da mostrarvi e vi mostro questo è perché anche se una minitalia ha fatto assolutamente il suo lavoro e si tratta di un prodotto della govi di cui adesso vi parlerò e questo è il take me to the butt quindi è il bagno doccia al profumo di bagno schiuma purificante energizzante sweet orange quindi arancia dolce allora la confezione che avevo io è un 30 ml ho segnato il prezzo perché 250 ml viene 11 euro e 90 allora govi che il marchio è questo è questo il prodotto per chi non lo sapesse govi è un marchio made in italy ed è qua che ha come interesse principale i prodotti naturali o comunque certificati e biologici per la cura della persona ultimamente fa anche integratori e altro però si è specializzata nei prodotti per la cura della persona di cui la fondatrice è michel anziker unziker vedico anziker e abbiamo detto che non è marchio made in italy lo trovate online e ha dei prezzi davvero accessibili per essere per avere prodotti e di così buona qualità perché ad esempio questo c'è il bar il balsamo il bagno schiuma bagno schiuma purificante oltre a essere un valido prodotto a un inci di quattro stelline su cinque del bio dizionario perché le uniche cose che lo fanno abbassare un attimo sono le profumazioni e i conservanti basta tutto il resto è naturale ma come dicono anche sul sito il 99,1 per cento di ingredienti è di origine naturale veniamo ora al prodotto intanto passiamo dal profumo che è delicato sa leggermente d'arancia quindi non è invadente non è non è troppo forte un'arancia molto delicata direi che più che altro è perfetto per l'estate e leggendola essendo purificante ed energizzante ci sta allora questo prodotto che se è una piccolino perché un 30 ml mi è durato tanto perché ne basta poco fa una bella schiuma anche bella morbida bella corposa che va a coccolare dopo si rimuove facilmente proprio facilmente proprio si rimuove subito ti lascia la pelle bella morbida bella idratata a meno che non l'avete ovviamente molto secca ma io solitamente non sento l'esigenza di applicare la crema idratante dopo perché non la sento tirare poi la metto se mi va però non è che sento l'esigenza quindi assolutamente io questo ve lo straconsiglio per l'inci per il progetto per l'idea innovativa e perché un made in italy per supportare e io ve lo consiglio assolutamente questa ricerca di prodotti con un buon prezzo e un buon inci sicuramente e ora andiamo avanti e vi voglio parlare di questo balsamo della ultradolce garnier balsamo crema all'estratto di mango e fiori di chiare dice di nutre ripare rende i capelli brillanti per capelli secchi o sciupati allora il prodotto è questo qui ok la quantità 200 ml per 2 euro e 49 da tigota e devo dire che questo mi è piaciuto davvero tanto ma tanto perché intanto il profumo mango mango con una leggerissima punta fiorita comunque è un profumo molto non è proprio dire estivo perché comunque ci sta anche nel periodo invernale se ci piace e da una sferzata di energia è un profumo energizzante a mio avviso c'è da una coccola ma dalla carica a mi piace e oltretutto si diffonde questo profumo nel bagno con l'acqua calda mentre lo uso che è proprio wow mi piace tantissimo ancora di più basta poco padotto si applica su lunghezza sulle punte io lascio agire un paio di minuti il tempo che faccio il resto della doccia si rimuove facilmente lascia i capelli super morbidi idratati nutre ripara rende i capelli brillanti allora nutre si ripara non ho notato questo effetto del riparatore però lasciandoli più corposi più morbidi più idratati tende a farli spezzare meno sulla spazzola e quindi aiuta e brillanti si si assolutamente quindi mantiene le promesse perché li lascia belli morbidi belli idratati li fa spezzare meno facilmente comunque si pettinano facilmente si mettono in piega tranquillamente e non va a farli sporcare più velocemente cosa importante e non tendere a pesantirli quindi assolutamente il prodotto super super consigliato e ora veniamo con l'ultimo prodotto di questo mese e dimostro questo questo è il dello stan e amande concentré dellì quindi al latte di mandorla quindi è una crema corpo allora e latte concentrato per il corpo ecco no perché non so come spiegarvelo dell'ossitan quello che avevo io erano 25 ml ma ho guardato il prezzo 50 ml viene 12 50 200 ml 42 euro a un prezzo un po elevato però è l'ossitan allora intanto vi mostro queste poi ve ne parlo ok allora intanto cosa dire mi ha stupito mi ha stupito davvero perché è un quando l'applicate è concentrato si è proprio ricco ricco molto ricco ma l'applicato sul corpo si stende facilmente si sente subito scorre velocemente sulla pelle non fascia bianca e assorbe quasi immediatamente quindi potete tranquillamente rivestirvi dove aveva applicato la crema però una crema molto ricca che nel periodo invernale davvero è wow perché va a idratare la pelle le zone secche del corpo adatta anche alla pelle più secca ma però senza appesantirla mi è piaciuta tantissimo per questo in estate ovviamente e non andrà a meno che non ha la pelle molto secca non andrei ad applicarsi tutto al corpo magari solo sulle zone più secche come i gomiti e i talloni perché no e soprattutto sui gomiti che si vedono bene però davvero è stato un wow una scoperta incredibile profumo allora dalla confezione sa di mandorla delicata ed effettivamente me ne ero scritta per dirlo anche a voi sa leggermente di mandorla anche una volta applicato ma non persiste sulla pelle quindi davvero molto delicato un latte che a me ha stupito e mi è piaciuto e adesso io ho finito e voglio sapere da voi quale prodotto avete provato quale vi è incuriosito se avete provato qualcuno come siete trovate e basta vi ricordo di lasciarmi un commentino per partecipare a questa azione io spero di essere utile e vi do appuntamento al prossimo video ciao ciao ehi sono qui ciao ti sei ricordato di mettere un commentino mi raccomando mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale solo così potrai ricevere un regalino da me lo sai che estraggo ogni mese ciao